e fai tre sesti x y z no, y uguale a x y z x e y z il senso non è finito il senso non è finito non puoi dai al non puoi dire al numero così oh scrivi il senso e y z non è finito perché tutti devono stare tutti uguali sì